La settimana dovrebbe concretizzarsi l'affare Bernardeschi. Perché? Perché praticamente la Juventus e la Fiorentina hanno trovato finalmente un accordo dal punto di vista economico che includerebbe anche Sturaro nella trattativa. Vi spiego, la Fiorentina chiedeva 50 milioni di euro, questi 50 milioni di euro sono stati giudicati diciamo inaccessibili dalla Juve che ha preferito spendere una somma del genere per Douglas Costa che a proposito è stato presentato in questo momento, sta facendo il suo primo allenamento con la maglia della Juventus e la Juventus ha trovato un accordo. Questo accordo praticamente è stato trovato sulla base di 40 milioni di euro più Sturaro. Almeno questo è quello che dicono i giornali. Ovviamente ragazzi tutto quello che io vi dico qui è una cosa che io riporto da fonti che io giudico affidabili però non è che quello che dico io è verità al 100%. Ovviamente questo è un canale di opinione calcistica, ricordiamo. Quindi quello che dico sono soltanto mie opinioni che voi siete liberi di condividere o meno. Bernardeschi questa notte è stato vittima tra virgolette di un piccolo incidente di percorso perché in una zona di Firenze è stato praticamente affisso un cartellone, uno striscione in cui lo si chiamava Gobbo di... e praticamente i tifosi fiorentini hanno rotto praticamente con Bernardeschi puntando tutto su una rivalità tra Juve e Fiorentina che io sinceramente non so dove si basi ovviamente. Ovviamente parliamo di un affare che è in dirittura, quindi non so se in settimana si possa chiudere al più, penso, al fine settimana. Non credo che Bernardeschi verrà accolto bene al Franchi, ecco la prossima volta che andrà a giocare con la Fiorentina. Però comunque parliamo sempre di un calciatore che secondo me deve avere le spalle larghe in questo momento perché fa un evidente salto di qualità ed è comunque un calciatore tecnicamente valido perché parliamo di uno dei talenti italiani che si è fatto ben vedere in questi ultimi anni e che secondo me necessita di una bella rinforzata di carattere, cioè secondo me quello che manca a Bernardeschi per fare il salto di qualità è il carattere secondo me, perché tecnicamente non credo si possa discutere è comunque un buonissimo calciatore che può agire nel 4-2-3-1 su tutti i ruoli della variante offensiva. Io volevo sapere voi che cosa ne pensavate, soprattutto se vi piace Bernardeschi, so che per alcuni di voi è molto caro però la Juve ha deciso di ripetere un'operazione simile a quella di Dybala proprio perché con Dybala erano 32 più 8 di bonus quindi in totale 40 milioni, qui sono 40 senza bonus più Sturaro, a meno che non inseriscano bonus di 2 o 3 milioni ma non credo, penso sia senza bonus con Sturaro a far da bonus complessivo. Fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente di questo acquisto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche nel caso in cui vorreste rimanere comunque aggiornato sulle attività del canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!